o cuccioli sì 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 come un altro o ma che bello guaglione stai giù per terra occhio c'è l'amichetto che ho spizzato cucciolo vuole aia ma ci hanno sparato anche a noi questo non c'è una capi niente o sì che non è l'amico non è stato fermi per inferi questo lo chiamiamo subito vieni qua di sparo sulle chiappette buonanotte zio gennaro ci spara qualcuno si ma da 12 ok probabilmente dalle finestrelle eccolo l'altro vikingo è il pesce secco di prima cucciolo vieni qui dai su è inutile che scappi dita e va bene va bene va bene noi come protettori della città di pinnacoli abbiamo absolutissimamente il compito di andare a pusciare prendere le branchie di questo pesce seccone ma signor signor pesci signor pesci o pesci dove esce o buonasera gennaro il pescioli o meno male che è scarto sto pesciolino altrimenti ci aveva già triturato occhio perché ok l'altro suo amichetto dovrebbe essere deceduto qua davanti molto bene ci prendiamo ci scegliamo tutto quanto ma già siamo i campioni incaricati pinnacoli ma non me lo dite chi diavolo è il pesce secco o calma di cucciolo forse non è capito come la o porca la miseria ti ho fatto assaporare una cosa molto free o hanno villato occhio il tizio con la coroncina a chi lato l'amico sicuramente da sti vizi e qua vicino ma non ci sono granatelle per farsi saltare via ma porca la miseria che game particolare comunque il boss dei boss ovvero lo chiameremo un o meglio iron ulc anche perché altrimenti iron man sarebbe un po troppo nocivo per questa skin è un troppo un po troppo misero dove diavolo sono i super cattivi perché altro dove diavolo è morto l'amico del nostro tizio o stanno restando stanno restando sono restate io lo sapevo ok hanno restato forse ormai troppo tardi andiamo 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 no lo dobbiamo becca va vada signora macchina vada ma ma che diavolo c'è o anche il coso per distruggere il mondo ma che cosa c'è qua davanti un colombo invisibile che non riesce a passare ok si vada tranquilla altra macchina di qua quello si sta curando è stato attaccato da qualcuno ho visto una scintillina blu cucciolino vieni un po qui che ti devo fare un bel discorsetto dove vai sulla montagna ti ci butto sotto da questa montagna via forza un po troppo tutti e due ok noi siamo ancora live è una banalita viziata molto molto bene ti spero no senza problemi banalita il problema che mi sa che noi moriamo in questo caso occhio ci sono che diavolo mi suona mi suona sta banalita ti vengo sopra che mangio banana senza ok altro liceo la metto fermi signori dobbiamo avere un attimo la situazione chiara ok c'è un tizio laggiù probabilmente sono contro no sono insieme maledetti ok dobbiamo sparare con quest'arma con questa di fa molto molto più male vieni qua cucciolino vuoi esplodere vuoi esplodere o non vuoi esplodere maledetto esplodi o c'è qualcuno ok il lama o ancora sono live questi due e non escono dalla dentro macchina per noi le andiamo a prendere ok esplosione fatta è avvenuta con successo o no il tizio con la coroncina è morto in safe non nella tempesta non possiamo prenderla purtroppo però il nostro obiettivo sono il tizio con la schiena della sbana nicchia sbananosa e il suo amichetto che non ho idea perché ma porca la miseria di ste macchine che si afflosciano in automatico ce ne andiamo via da qua via da qui sicuramente sono hanno le ground o mio dio 7mila sound si sentono tasti pizzi facciamo una roba prendiamo anche noi da ground fermi potremmo fare qualcosa di rivoluzionario che molto probabilmente ci porterebbe alla morte certa occhio fermi questo è buono questo è buono questo è buono sì sì va bene e porca la miseria ok bravo finti niente da partire niente ok carica l'arma cucciolo carica l'arma qui sono dei lupacchioni un airdrop che sceso la sotto no no lupo 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 ma lupo lupo non mi fa cadere lupo ma le quarta che so fa ma porca la miseria dei stilupi ma maledizione era il mio piano segreto questo pure quest'altro vieni qua vieni qua guarda se ci sono villare per colpa di stilupi ok non si sono accorti di niente quei due sono cento dieci di otto questo è la cerchina da che me plaza o che sicuro interessano noi da qui o si ma cosa sta succedendo cosa diavolo sta succedendo ma soprattutto che diavolo c'è sotto questa skin fatemelo vedere che diavolo sai vostra di credibile e iron man occhio che fermi sono andati a usare sì 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 lo vedono vedono il colibri vieni giù vieni giù vieni giù vieni bravo così no un pochettino più su bravo 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 no 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 un po troppo maledizione noi siamo qui belli tranquilli sempre ieri vivi e amici miei mi raccomando all'interno i negati oggetti inseriti utilizzate il codice più fresco del centro d'italia r4 vediamo dove diavolo ok ai troppo per lui e a cascata addosso un altro stanno vedando c'è un play o cos'era quel sound ragazzi non mi mettete paura ve ne prego occhio sì 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 cucciolo si cucciolo quasi disparo sui piedini dobbiamo allenarci con questo cecchino non ci prendo manco o qualcuno però mi sa tanto che all'interno di quel c'è spuglio vediamo cosa è vero ovviamente non ho preso il c'è spuglio sì c'è spuglio più c'è spuglio 30 aia 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 da dietro ma come da dietro ma chi diavolo il fermo è solitario non ci posso credere se mariana c'è chiama dietro sono morti è se mi arrivano c'è chi non ci posso credere ha chiuso o i sparano altri sì 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 vi prego alleghiamoci contro il verme alleghiamoci contro il verme ragazzi o mio dio che brutta situazione ha chiuso anche l'aria ho fatto a chiudere l'aria il verme solitario qua sopra cecchino in mano per noi non mi non mi devi prendere non mi ha chiuso l'aria signori non c'è più l'aria nei condotti questa non è una buona situazione per noi questa anzi è una situazione la classica situazione di cacca il piccione ancora sul cornicione io ho una paura che mi vengono a pushare che è basta maledizione ok sì va bene va bene va bene abbiamo avuto la nostra playerino qui via 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 no 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 ok via tranquillo col suicidio fermi la dobbiamo ragionare ok uno è nel cespuglio lo vedo e lo prendo ti prego sì 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 preso official scendi carica era il verme che aveva interrotto la la corrente ti chillo subito cucciolino che credi che ti lascio lì a life no il verme scesora il verme scesore quest'altro occhio c'è il cecchino no dove vai dove vai ritorna dietro occhio ancora qui si si la killetta quella che non mi aspettavo fermi siamo uno contro uno e noi siamo morti è coroncina per lui e anche lui è morto dentro la tempesta occhio signori e dobbiamo stare molto attenti questi c'hanno le grande io non posso salire o la macchina così quasi utilizzerei la macchina come protezione o mio dio che agitazione così no però ragazzi così mi fate scoppiare il corazon dove diavolo siete non mi dire che se nel cespuglio no non c'è più nel cespuglio e io devo andare con la macchina dobbiamo andare anzi fammela arrampicata violenta fammela 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 me l'ha fatta fermi 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 abbiamo le ground abbiamo anche la pomadina ci facciamo un po di pomadina ti prego scildino rimani qua si va bene bene così dove è il cattivo dove il cattivo è il cattivo è il cattivo 3 4 3 6 6 1